ogni riccio è un capriccio con gilda questa bellissima azienda tenuto emocarta che abbiamo avuto il piacere e l'onore di conoscere mario siamo stati in azienda stupenda esperienza veramente e poi graziosissima persona gilda grazie grazie diciamo uno stand sempre estrepieno guardate che è complicato parlare con gilda e contenuto emocarta anche c'è sempre tantissima gente una domanda a te il vino piace assolutamente sì non potrei fare il rosso il bianco quale è rosso assolutamente il rosso e quale preferisci del perricone perricone questo qui che tra l'altro ho messo vedi in evidenza in prima fila che è un vitigno ahimè poco conosciuto all'estero ma che veramente ha delle potenzialità pazzesche e quindi l'azienda sta provando proprio a sponsorizzarlo tantissimo all'estero ha avuto riscontri positivi per ora con generale su questo vino sì assolutamente sì tra l'altro è una scoperta anche per chi lo assaggia perché identificano la sicilia sempre con il nero tavola quindi io l'ho messo lì prima in fila dove la sicilia non è solo grillo e nero tavola ma anche altro tra l'altro tenuto emocarte è una delle poche aziende che ha sempre coltivato il perricone nonostante alcune aziende per alcuni anni hanno stoppato diciamo la coltivazione noi ne abbiamo prodotto da sempre praticamente dove si trova diciamo noi ci troviamo a salemi vicino trapali per chi non conoscesse insomma la sicilia circa 450 metri sul livello del mare quindi vini freschi minerali di tutto di più aromatici insomma dei vini ben strutturati e ben bilanciati e che sicuramente colpiscono gli intenditori e non Mario e anche sua sorella che sia più conosciuto principalmente Mario un gran lavoratore una persona insomma in gamba tanta stima per questo è nata anche questa grande simpatia e in più devi sapere penso che lo saprà noi abbiamo la maglietta Los Angeles io compro siciliano una realtà versione Los Angeles perché fra dieci giorni i vini e la tenuta ma carta saranno presenti a Los Angeles assolutamente sì al Next Expo che questa questo evento fieristico sul Made in Italy noi rappresenteremo la Sicilia e sarà una delle 70 aziende che stiamo portando a Next Expo quindi tu vieni a Los Angeles ancora non è stato proposto ma come è che ci vado la Colonia e non lo so dire se non ci vado vabbè vabbè i confini europei faremo questo appunto a Mario viva la Sicilia viva tenuta ma carta e viva io compro siciliano grazie a tutti